Grazie a Armando, buon aiuto, grazie a Torino Spiritualità, grazie a tutte e tutti voi per essere qui, è un piacere, un onore, vi confesso che il libro di Stefano Massini, sono molto orgoglioso di presentarlo perché è un libro che mi ha emozionato, collocato dalle naudi nella collana di teatro, uno che fa la mia professione dice, oi boh, che paura, pochissimi leggono teatro, però purtroppo, ve lo dico subito, vi faccio entrare la famosa area di comfort, questo è un libro che si legge come un romanzo, quando io l'ho fatto ho chiamato mia moglie che stava in un'altra stanza e io ho detto senti qua, senti qua, senti qua come suona e mi sono scoperto tantissime volte leggendolo, confesso sono un libraio che legge, a trovarmi a volerlo leggere ad alta voce, a volerlo leggere a qualcuno. Allora ti chiederei Stefano per iniziare questa cosa, se puoi fare questo per noi, leggerci l'attacco del libro. Allora, mentre Scartabello e Apro ti debbo dire, mea culpa, che questo libro lo trovate nella collana di teatro di Enaudi, non per responsabilità dell'editore, ma per responsabilità mia, nel senso che l'editore Enaudi quando lo lesse mi disse questo non è della collana teatro, questo è un libro da mettere nella collana della narrativa, però io voglio invece che fosse messo nella collana teatro perché? Perché intanto io vengo dal teatro e per quanto il teatro sia respirato come un mondo di nicchia, resta il fatto che io sono nato col teatro, continuo a tenermelo stretto, poi nella mia storia ho per alcuni incidenti di percorso, perché sono stati incidenti di percorso, ho intercettato la televisione, ho intercettato il cinema, i libri non di teatro, però poi fondamentalmente il mio amore per il teatro è sempre rimasto intatto. Questa grande passione per questo rito antico, povero, all'apparenza anacronistico, scomodissimo, però vi confesso, vi confido che comunque continua a sembrarmi straordinario, cioè questo fatto che mentre il cinema è entrato lui nelle nostre abitazioni, per cui incredibilmente puoi permetterti di vedere un film non soltanto sul televisore di casa ma addirittura sul tuo smartphone, quindi il cinema è venuto lui da noi, lo sport è venuto lui da noi, oggi puoi tranquillamente non andare più allo stadio e guardarti la partita sullo smartphone di nuovo. Ecco, viceversa, fra tutti questi generi espressivi che sono venuti loro da noi, sopravvive questo testardo, cocciuto, mulo, scalciante che è il teatro, che invece ostinatamente rimane scomodissimo. Devi uscire da casa, devi prendere l'automobile, devi cercare parcheggio, devi entrare in una sala sedendoti accanto a qualcuno che forse ti passa un virus, devi stare in qualche modo lì sotto un unico tetto con chi il teatro lo fa, per cui se crolla il tetto muore chi fa il teatro e chi lo vede, tutti e due ugualmente. Ecco, questo meccanismo per me rimane straordinario, perché implica un prezzo. E noi questa è una cosa che abbiamo scusami, l'utilizzo del sostantivo che evidentemente è voluto, abbiamo disprezzato, il fatto invece che le cose con un prezzo sono quelle più importanti, perché sono quelle dove il prezzo ti ricorda continuamente che ne deve valere la pena. Ecco perché questo patto fra gli spettatori e il teatro continua tuttora a sembrarmi straordinario. Ed ecco perché questo mio testo non si trova nella collana molto più appetibile della narrativa, ma si trova rigorosamente nella collana del teatro. Fatemelo dire, viva il teatro, sempre. Una valigia, una valigia chiusa, una valigia chiusa in fondo al letto. Una valigia chiusa in fondo al letto in una pensione senza pretese in New York, anno 1938. La valigia sta là, Leo Sillard non l'ha mai aperta da chi è sbarcato qua in America, dove si va al cinema a vedere Greta Garbo e tutti leggono quel nuovo fumetto su un tizio in pigiama, rosso e blu, che viene dal pianeta Krypton. Che poi anche Greta Garbo e anche il tizio col pigiama, pure loro, non sono nati qua e ci sono venuti con la valigia. Leo Sillard la sua non l'ha mai aperta da chi è sbarcato qua e il suo unico amico uno ne ha. Uno basta e avanza. Il suo unico amico glielo chiede sempre, Leo dimmi che hai disfatto la valigia, dimmi che hai messo le tue cose nell'armadio e Leo si toglie gli occhiali, pulisce le lenti, è il suo modo riprendersi tempo da sempre. Poi li rimette sul naso e... Hai fatto caso che i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, erano sempre in viaggio. Cominciò così, sempre con la valigia, sempre altrove, la Torah è tutta una storia di valigie. Ma sai che c'è? I patriarchi erano in esilio, non a casa, e lo sapevano benissimo che là dovevano tornare, che quella era la meta e la valigia si disfa solo quando sei a destinazione. Qua, io e te, amico mio, siamo di passaggio. E sia, valigia chiusa. Dentro la valigia sette camice di cui tre bianche, due grigie, due azzurre, tre paia di pantaloni, due giacche, tre cravate, tinta unita, una un po' sul beige, sedici calzini, otto mutande, tre cannottiere. Dentro la valigia poi una cartella in pelle, dentro la cartella una busta, dentro la busta due foto di famiglie incorniciate, tutte e due sul Zecheni Lankid di Budapest. Una foto è d'estate, maniche corte. La donna a destra vestita di chiaro, a sinistra la più anziana, stringe gli occhi, forse il sole sul ponte la abbaglia. Gli uomini nella foto sono quattro, tutti con l'abito a righe, i bambini ridono, la più piccola accarezza un cane. L'altra foto non lo so che giorno era, alla fine che importa che giorno era, doveva far freddo a Budapest, questo sì, con letti alti. Uno ha il cappello di pelliccia e il bambino grassoccio davanti ai guanti, che a Budapest, se fa freddo, non è freddo, è gelo, sì. La valigia è sempre chiusa e fondo al letto, Leo Szilard non l'ha mai aperta da chi è sbarcato a New York. Con il suo unico amico, uno ne ha, uno ne serve, parlano spesso del Fogas Haas, delle ragazze del ghetto, del cameriere con la faccia da cinghiale, del freddo che fa là a Budapest, che poi ha freddo, quanto ha freddo a Budapest non è freddo, è gelo. Parlano di questo spesso, prima che l'altro dica, Leo, dimmi che hai disfatto la valigia, dimmi che hai messo le tue cose nell'armadio. E Leo Szilard lo sa, lo sa che quella domanda del suo amico in realtà vuol dire altro. Là, al ghetto, dove ancora l'iddish si impasta col Magiaro e fa una lingua tutta sua, avrebbero detto, Il saggio sente una parola, ma ne capisce due. E Leo Szilard lo sa, lo sa che mettere le cose nell'armadio vuol dire più che mettere le cose nell'armadio. Per cui scuote la testa e non è casa mia questa, è di passaggio. L'avete sentito? In questo attacco c'è un oggetto, un oggetto che ricorrerà quando Stefano Massini racconta le storie di questi scienziati ebrei ungheresi che andarono negli Stati Uniti per partecipare al progetto Manhattan, per arrivare alla costruzione della bomba. C'è la valigia che resta chiusa ai piedi del letto che abbiamo visto, ci sarà la valigia di un matematico, un personaggio curiosissimo, Erdos, conosciuto dai più come un matematico vagabondo, uno che aveva la capacità di stare al lavoro per tantissime ore e per rendeva per sfinimento i suoi compagni di lavoro che non riuscivano a star dietro ai suoi ritmi. Ci saranno le valigie piene di Ed L. Teller che sono piene soprattutto di risentimento. Quando noi pensiamo al mondo ebraico e pensiamo alla valigia, pensiamo alle valigie di Auschwitz. A me è venuta in mente anche, non so se la conosci Stefano, la valigia di uno strano maestro talmudico che si chiamava Shushani, che era un personaggio curiosissimo, alcuni dicono addirittura non sia mai esistito, per altri è addirittura il nuovo messia che non hanno riconosciuto che morì, fu maestro di Wiesel e quest'uomo quando lasciò la Francia per l'Uruguay lasciò dietro di sé una valigia che aveva portato a casa di amici per tantissimo tempo e quando dopo decenni capirono che lui non sarebbe mai tornato trovarono il coraggio di aprirla e dentro la valigia c'era un cucchiaio di latta e una formula matematica che nessuno ha mai compreso a cosa servisse. Quando tu dici giustamente che queste storie di patriarchi sembrano storie di viaggio, che la Torah tutta sembra una storia di spostamento per certi versi, a me sono venuti in mente i bieguni, non so se li hai mai sentiti nominare, sono una famosa setta ebraica ortodossa di cui parla l'autrice polacca Olga Tokarczuk. I bieguni si muovevano costantemente perché sostenevano che muovendosi costantemente potevano sfuggire al male. Tu che ne pensi di questa storia? Bisogna muoversi per sfuggire al male? Guarda dunque, le valigie sono sempre state un simbolo molto forte nell'ebraismo, sempre. basta capire che comunque l'elemento della diaspora è comunque un elemento che comporta lo spostamento. Gli ebrei sono sempre stati un popolo in movimento. Io, fra l'altro, sotto questo punto di vista, ho avuto nella mia vita un percorso molto strano che, se vuoi raccontiamo, visto che questo è l'ulteriore testo mio dove io maneggio l'ebraismo. Ma c'è una ragione, c'è una ragione che sta, diciamo, nel mio DNA, nel senso che io non vengo da una famiglia ebraica. Però successe qualcosa. Successe che quando ero poco più che un bambino, avevo 5 anni, 6 anni, anzi 5 per l'esattezza, successe che mio padre un giorno, durante un turno di lavoro, si trovava da solo con un collega, molto più anziano di lui. E mentre erano insieme a lavorare, questo suo collega, all'inizio degli anni Ottanta, ebbe un attacco di cuore. Ebbe un attacco di cuore, mio padre quindi chiamò i soccorsi e mentre arrivavano i soccorsi gli prestò lui il primo soccorso facendogli il massaggio cardiaco e di fatto salvandogli la vita. Quest'uomo si chiamava Renzo Servi, è stata una delle persone più importanti nella mia vita. Renzo Servi, che si è salvato grazie al soccorso prestato da mio padre, era uno degli anziani della comunità ebraica di Firenze. Nell'ebraismo sefardita, la comunità di Firenze è una comunità di rito sefardita, c'è una legge, una regola che dice che se un non ebreo salva la vita a un ebreo, la comunità e la sua famiglia sono tenuti ad aprire le porte alla famiglia del Salvatore come se fossero dei nostri. E così successe. Successe che siccome la famiglia Servi era una famiglia che rispettava molto le regole, la famiglia Servi e la comunità ebraica, ma soprattutto la famiglia Servi, aprirono le porte alla famiglia dei miei genitori e chiaramente io ero uno che ne faceva parte. E niente, successe un fatto, successe che non soltanto cominciamo a passare degli ameni pomeriggi alla comunità, ma successero due cose molto importanti e impreviste, quando si dice a volte i collegamenti della vita. Successe che numero uno, Renzo Servi, che nel frattempo era stato operato al cuore, si era rimesso, era non soltanto uno degli anziani della comunità ebraica, ma era uno dei portentosi attori anziani della compagnia degli anziani della comunità. C'era un teatro sotto il Tempio di Firenze, che fra l'altro è un tempio bellissimo, e nel fine settimana in questo teatro si svolgevano gli spettacoli teatrali con la compagnia degli anziani che recitavano il repertorio ebraico fiorentino, che è un repertorio peraltro antichissimo. Ecco, io il teatro l'ho conosciuto lì, il teatro l'ho conosciuto in ebraico, l'ho conosciuto in quel tipo, diciamo, di realtà. In più, elemento fondamentale, la moglie di Renzo, che è tuttora viva ed è una delle persone più care che io abbia, una seconda madre per me, Ornella Cassuto, che si chiamava Cassuto perché era direttamente la cugina del sindaco di Gerusalemme, Natal Cassuto, la moglie di Renzo era la maestra elementare nella scuola ebraica parificata che si trovava dentro la comunità. Allora, dovete sapere che tuttora la comunità ebraica fiorentina è composta principalmente da persone di lingua inglese, perché sono prevalentemente ebrei americani. Ragione per cui, negli anni Ottanta, alla scuola elementare della comunità ebraica, l'insegnamento si svolgeva la mattina in italiano, il pomeriggio, durante il cosiddetto dopo scuola era tutto in inglese. Per cui Ornella, parlando con i miei genitori, disse scusa ma visto che nella scuola italiana nessuno insegna l'inglese perché allora gli elementari oggi lo fanno, ma allora era impensabile, disse ma perché non fate frequentare da Stefano la mattina la scuola normale? Pomeriggio il dopo scuola lo viene a fare da noi alla scuola ebraica, ma tale che almeno conosce le lingue. E io andò così. Ho fatto il dopo scuola alla scuola ebraica con il risultato che nella mia infanzia, per tantissimi anni, fino all'adolescenza, c'è stata una doppia vita. C'è stata una vita con un piede nell'Occidente cattolico, quello della mia famiglia di provenienza, che per fortuna non era una famiglia bigotta perché d'altra parte capisci che altrimenti non avrebbero mai consentito questo, e poi c'è stato un altro piede della mia vita nell'ebraismo, per cui io prendevo i regali per Natale e i regali per Annucca, che era una cosa non marginale. Sono cresciuto con tutte le feste cattoliche, la Pentecoste, l'ascensione, tutto, però anche con Rosh Hashanah, con Tishri, con Sukkot, con Shavuot e tutto il resto. Quindi è già Shavuot. E soprattutto sono cresciuto con questo doppio mondo. Le regole cattoliche, cristiane e dall'altro lato le regole ebraiche, che in molti casi sono comuni, perché per esempio tutto l'Antico Testamento cattolico è comune, no? In alcuni casi invece è profondamente diverso nella visione proprio e nel peso di certe cose è diverso. A me per esempio ricordo che colpiva sempre tantissimo questo valore molto diverso, visto che è il tema, il valore completamente diverso della morte. Il tema della morte è antitetico nell'ebraismo rispetto a quello del cristianesimo, no? A partire dal fatto che gli ebrei quando vai al funerale di uno di loro si girano di spalle, proprio si girano di spalle, raccolgono la terra e la buttano dietro le spalle e poi sono tenuti a non andare più a vedere la tomba della persona per almeno tre settimane. Perché il concetto è che tu ti devi dimenticare, no? E quella manciata di terra con la persona di spalle indica questo, indica che i morti devono stare con i morti, i vivi hanno un'altra... Quindi sono cose completamente diverse rispetto al cattolicesimo. Io sono cresciuto, vi confesso, in questo mondo bellissimo, perché l'ebraismo poi per me è stato, e questo si capisce poi nei testi che ora scrivo, che sono quasi sempre intrisi di quello. Io torno qua al Gobetti fra poche settimane, con una settimana, mi diceva il direttore prima, già esaurita, mi dispiace, ma, cioè, da un lato mi fa piacere, dall'altro lato lo dico se qualcuno vuole venire, che è l'interpretazione dei sogni di Freud. Freud è interamente imbevuto di ebraismo dall'inizio alla fine, cioè l'immaginario di Freud è un immaginario impossibile da comprendere se non hai l'ebraismo dentro. Uno dei primi sogni che Freud analizza di se stesso è quando si ricorda che lui era un bambino, alle prime luci dell'alba sentiva la madre che apriva gli armadi di casa per riporvi dentro la biancheria e lui dice io mi ricordo che io sognavo, sognavo sempre la stessa cosa, sognavo il tempio, lo Yom Kippur e c'ero io che aprivo le ante della Rona Kodesh per rimettervi dentro i rotoli, quindi è proprio, è tutto intriso di ebraismo. E sono cresciuto in questo modo, poi arriva la risposta sulla valigia, sono cresciuto così con questa lingua stupenda, bellissima, che a un bambino come me, capite, non poteva non suonare di un fascino enorme, no? Questa lingua antichissima con questo suono stupendo, io tuttora... Le aspirate... Ma sì, ma io tuttora ho un ricordo nettissimo, nettissimo del seder di Pesach tutto questo suono stupendo che poi ha fatto parte della mia vita, perché poi, diciamo, non me lo sono mai tolto Le valigie sono un elemento caratteristico, il viaggio lo sono nel DNA, al punto tale che l'ebraismo, come sapete, si differenzia fondamentalmente con l'accetta fra sefarditi e aschenaziti, che si chiamano così perché in ebraico sefarad vuol dire Spagna e aschenaz vuol dire Germania quindi già in questo il tema del viaggio ce l'hai subito, no? Cioè, nel senso, questi si chiamano così perché portano l'imprimatur di da dove vengono o meglio, da dove li cacciavano, perché poi questo è il tema fondamentale i sefarditi sono quelli che hanno cacciato dalla Spagna e gli aschenazi sono quelli che sono finiti in Germania perché li cacciavano da qualche altra parte e il tema della faligia è sempre presente, c'è un antico racconto che poi trasfigurato si trova anche in America e qui c'è tutto il tema fallato dell'ebraismo americano che io ho già raccontato nell'Eman Trilogy che è in qualche modo un mondo stupendo e che noi secondo me non possiamo ben capire guardate, l'anno scorso quando io sono andato in America per il premio alla fine, l'ultimo giorno dovendo tornare all'aeroporto il tassista ci dice c'è un incidente a Brooklyn per cui dobbiamo fare non la highway ma dobbiamo fare la strada normale per arrivare, è lunga, la strada normale per arrivare da Manhattan fino all'aeroporto JFK è molto lunga, però d'altra parte c'era la strada bloccata, correvamo il rischio di perdere l'aereo facciamo la strada normale è stata una cosa stupenda perché inaspettatamente, io non l'avevo messo in conto questo in questa strada normale che passava da tutti i soborghi oltre Brooklyn oltre Williamsburg certo, dove si salda Brooklyn con Queens ci sono i quartieri e passi dal quartiere ebraico ed è una cosa impressionante trovarsi dentro questo mondo di queste persone con tutte le scritte in ebraico con tutti i negozi in ebraico, le persone con la barbona lunga, con le tefillà lì è un mondo quello che, e vi garantisco che quando a un certo punto la strada costeggia il cimitero principale ebraico il cimitero ebraico di New York è sterminato cioè stiamo parlando come dell'intera Moncalieri è una cosa veramente incredibile lì c'è un mondo questo lo voglio raccontare perché sul tema del viaggio e delle valigie quindi e poi vi racconto la storia che ho detto prima è un tema che mi ha colpito tantissimo perché il viaggio poi comporta anche l'unione con altri viaggi quando io andai la prima volta a New York nel 2016 a presentare Lehman alla fine dell'incontro arriva un tizio e mi dice guardi mi volevo presentare io sono uno dei discendenti della famiglia Lehman so che lei, ho letto il libro, lei parla del tempio io nel libro parlo nella seconda parte del libro parlo del tempio cosiddetto Hammanuel che era il tempio dove andavano le famiglie della borghesia ebraica di Manhattan quindi Lehman quando si trasferirono dall'Alabama a New York e mi dice lo vada a vedere il tempio perché c'è c'è tutta una scritta che parla dei miei familiari, dei Lehman, di quelli di cui parla lei allora la mattina dopo io avevo l'aereo la sera io prendo con questo indirizzo che mi aveva dato lui e vado a cercare il tempio che avevo visto nelle stampe antiche essere un tempio con intorno questo giardino questa cosa era un tempio dove andava, ripeto, l'alta borghesia new yorkese per cui cerco e a un certo punto vedo che la strada mi porta dentro Chinatown ecco come è possibile dentro Chinatown cerco questo tempio e a un certo punto continuo a passare dentro tutti i negozi di China questo caos incredibile che c'è nella Chinatown appunto accanto perché poi Chinatown è poco distante da Wall Street alla fine perché cerco questo tempio e a un certo punto in mezzo alle botteghe cinesi trovo questo posto, questa facciata con i rosoni con la stella di David completamente affogato in mezzo alle botteghe ebraiche ed entrando dentro mi rivolgo a un tizio e gli chiedo e lui mi dice sì un tempo c'era il giardino intorno poi dice i cinesi hanno mangiato tutto e oggi è rimasto il tempio con intorno il quartiere cinese e tutto questo sul momento mi ha, fra virgolette, mi ha indignato poi però mi ha fatto sorridere come secondo me ne sorridono gli ebrei perché loro hanno fatto sempre la stessa cosa con gli altri e anzi li trovavano detestabili proprio per questo perché costruivano il loro mondo in un luogo che non era il loro colonizzandolo, questa facilità questa facilità è sempre stata la risorsa incredibile degli ebrei il racconto che fra l'altro trovo bellissimo si dice in una delle antiche storie ebraiche ripeto che poi viene traslitterata anche negli Stati Uniti e te la ritrovi venduta e spacciata dagli americani come se fosse una cosa loro si racconta di un tizio che un giorno fa un sogno sogna lui che un giorno trova un tesoro allora dice io devo lasciare tutto e devo andare a cercare un tesoro perché il sogno era talmente affidabile che io ho l'assoluta certezza che un giorno io troverò davvero un tesoro visto la scena del sogno è chiaramente affidabile per cui prende le sue due valigiene a due in una valigia mette tutto quello che ha nella sua povera casa scava una fossa, mette la valigia dentro con tutto quello che aveva saluta casa, saluta tutto quanto e dice adesso con l'altra valigia parto e tornerò soltanto quando la mia valigia sarà piena zeppa d'oro e va a cercare fortuna nel mondo, gira tutto quanto il mondo ma niente, non trova niente non trova niente, passano gli anni, non trova niente il tesoro non lo trova sempre più rassegnato, sempre più invecchiato sempre più stanco, sempre più deluso dice va bene, il sogno era sbagliato ho creduto a un sogno che era completamente privo di qualunque senno ho sbagliato, torno a casa torna a casa, quando torna là si ricorda che un tempo aveva aveva scavato una fossa aveva sepolto quella valigia con tutte le sue povere cose di un tempo scava, tira fuori la valigia in quel momento si rende conto che la scena del sogno era esattamente quella il tesoro ce l'aveva già da prima e conclude la saggezza talmudica dicendo molte volte quando cerchiamo un tesoro pensiamo sempre che sia lontano da noi fuori da noi, altrove da noi il tesoro ce l'hai già dentro c'è uno di questi scienziati Wigner che ebbe per sua sfortuna la tubercolosi l'aveva contratta quando era bambino e da bambino aveva avuto a disposizione una quantità infinita, enorme di tempo per pensare e crescendo lui conosce un altro uomo di scienza ed è una figura veramente straordinaria laterale del libro ma assolutamente centrale secondo me che fa dei discorsi talmente alti questo fisico che tutti quanti scambiano per un rabbino tra l'altro è assolutamente vera la storia nel senso lui era veramente tra l'altro morto giovanissimo lui è morto in giovanissima età lo chiamavano tutti rav perché proprio lui era un fisico però in realtà lo consideravano un rabbino ed è l'inventore io lo racconto nel libro è l'inventore non l'inventore lo scopritore di una delle regole tuttora accettate con divise scientificamente provate sulla migliore forma di rappresentazione del tempo rappresentazione fisica del tempo lui arrivò sostanzialmente a teorizzare in termini fisici il tempo come che ha parlato di una cosa stupenda secondo me come una gigantesca X se voi avete in mente la lettera X c'è proprio un enorme X sulla pagina una X appunto eccola qua una X rovesciata dove da una parte c'è il passato se vi immaginate una X rovesciata c'è il passato che converge tutto verso un punto piccolissimo rispetto al passato e rispetto a quello che ne segue quel punto è il presente che è l'incontro di tutto il passato che converge lì e da lì parte il futuro era un concetto allora rivoluzionario il concetto per cui fondamentalmente non esiste non esiste il presente il presente è incoglibile io per l'appunto mi fa sorridere questa cosa perché caso vuole proprio ieri sera nel mio spazio in televisione ho toccato questo tema che noi oggi viviamo in questa in questa totale cristallizzazione del presente per cui tutto quanto è soltanto valido nel momento in cui lo possiamo commentare dicevo ieri sera in televisione io sono profondamente colpito da questo fatto che naufraga un barcone e l'argomento diventa l'immigrazione per due o tre giorni poi dopo avviene un'altra cosa e improvvisamente tutto quello che è successo finisce immediatamente archiviato con la stessa identica logica dell'algoritmo dei social è lo stesso meccanismo tu pubblichi una cosa quella fa incetta di like per uno o due giorni dopodiché si esaurisce e svanisce il presente non esiste fondamentalmente ma noi ci illudiamo che esista solo lui invece e a un certo punto appunto lui racconta questa storia racconta questo fatto come è detto che il tempo è questo è il passato che genera inevitabilmente il futuro come in questa grande X in cui appunto le due linee del passato generano poi tutta la dimensione del futuro è una storia pazzesca questa secondo me perché vedete noi di recente abbiamo avuto il film di Nolan su Oppenheimer magari me lo stavi per chiedere dopo non lo so però si pensa veramente sempre nella semplificazione generale che la bomba atomica sia figlia di Oppenheimer è passata la storia questo fatto anche perché c'è tutta una vicenda che poi vale la pena di essere raccontata Oppenheimer era era da un lato terrorizzato ossessionato da questo fatto non a caso dopo aver assistito al test famoso al primo test nel New Mexico lui pronuncia quella frase diventata poi famosa che lui prende in realtà in prestito da un testo hindu che dice io sono il distruttore di mondi io sono diventato la morte no? lui era ossessionato da questo fatto che nel futuro come poi è successo lui sarebbe diventato colui che dava il proprio nome alla bomba atomica quindi alla più grande arma di distruzione di massa mai costruita in realtà c'era una ragione per cui lui era ossessionato da questo devo dire non ha fatto mai niente per evitarlo la ragione era che c'era un precedente di uno che invece era riuscito a evitare di passare alla storia legandosi alla morte di una quantità enorme di esseri umani e c'era riuscito ci è riuscito perché quando noi ogni anno ascoltiamo la lista dei premi Nobel noi pensiamo in modo molto compiaciuto in modo molto fiero pensiamo a che bravi gli svedesi hanno fondato il premio Nobel il premio Nobel è un premio sulla ricerca il premio Nobel in realtà è una forma di risarcimento perché Alfred Nobel era un inventore era uno scienziato che ha inventato la dinamite la storia fu tragica perché lui inventò la dinamite quindi questo esplosivo potentissimo che inizialmente veniva prevalentemente usato per uso per uso industriale non soltanto veniva usato nelle miniere prevalentemente però poi scoppia la guerra e la dinamite gliela scippano o meglio gliela chiedono non gliela scippano questo è il punto lui era d'accordo e la usano per farci delle bombe in quella guerra a Nobel muore il fratello ucciso proprio da una bomba che conteneva la dinamite a quel punto Nobel va in profonda crisi il tema della scienza che genera morte diventa in lui un tema ossessionante e lui dice basta io devo trovare il modo di passare alla storia non come colui che ha creato morte e si inventa il premio Nobel fra le varie cose ci è riuscito perché ripeto oggi noi Nobel lo associamo al premio mentre Oppenheimer come insegna il film lo associamo alla bomba atomica però in realtà non è così nel senso che Oppenheimer è arrivato molto dopo sulla storia della bomba atomica la bomba atomica nasce prima e io ora racconto tutta sta storia e nel mio libro Oppenheimer entra in scena alla terza parte quindi perché la cosa interessante è proprio questa la storia della bomba atomica nasce fondamentalmente come la storia di un equivoco parliamoci chiaro perché perché c'erano tutti questi scienziati geniali giovani ungheresi di cui tu hai citato alcuni che essendo tutti ebrei avevano dovuto lasciare l'Ungheria e andare negli Stati Uniti in America salvandosi la vita e unendosi a tutta una comunità scientifica che già era negli Stati Uniti da alcuni anni avendo intuito che le cose potessero precipitare Einstein era a Princeton da cinque anni essendo ebreo Enrico Fermi che pure non era ebreo ma la moglie di Fermi era ebrea e soprattutto erano ebrei la gran parte di quelli che collaboravano con lui a Roma e il regime chiaramente non gli consentì di continuare anche Fermi se ne va negli Stati Uniti c'era una quantità incredibile di scienziati europei ebrei che per salvarsi erano andati negli Stati Uniti fra cui questi ragazzi giovani ungheresi i quali arrivati negli Stati Uniti immedesimatevi questi erano dovuti fuggire avevano lasciato tutto avevano lasciato le case in fiamme o i ghetti è famosa la vicenda per dire della famiglia Einstein quando dopo alcuni anni Einstein saprà che la parte della famiglia che è rimasta in Europa poi è stata sterminata quindi lasciano tutto questo vanno negli Stati Uniti e avevano addosso un terrore incredibile il terrore incredibile era che colui che li aveva fatti fuggire diventasse il padrone del mondo quindi che Adolf Hitler riuscisse a imporsi ovunque avete sentito l'inizio del testo c'è il professor Szilard che dice io non voglio restare qua non sfaccio la valigia perché io voglio tornare a casa quindi lui aspettava il momento in cui finalmente questo in bianchino come verrei chiamato da un altro smetterà di dettare legge e finalmente potrò tornarmene a casa e quindi aspettavano tutti questo momento che però non arrivava anzi Hitler era sempre più forte Hitler era sempre più incontenibile e la paura di tutti qual era? Era che lui potesse realizzarsi un'arma talmente potente da diventare veramente il padrone del mondo scoprono guarda caso che all'istituto Kaiser di Berlino dove lavoravano i loro colleghi c'era veramente una ricerca che riguardava l'uso militare dell'uranio che era stato scoperto era la grande scoperta fisica di quegli anni Fermi vince il Nobel Szilard vincerà il Nobel di lì a poco avevano scoperto che nella materia si annidava questa forma di energia pazzesca che però era stata pensata per dare un uso di energia alle città per far da combustibile ora che c'era Hitler Hitler pensa di usare questo combustibile questa energia per farci un'arma loro realizzano questo rischio e dicono dobbiamo subito cercare di capire come potrebbe fare Hitler a farsi questa arma e scoprono che per realizzare veramente una bomba atomica era necessaria una quantità immane di uranio l'unica miniera al mondo dove fosse contenuta una quantità di uranio tale da farci un'arma si trovava nel Congo nell'Alto Katanga c'era questa miniera dove c'era una quantità incredibile di uranio fino a quel momento usato per usi meramente industriali se non addirittura artigianali lo usavano come componente di una tinta che serviva a dipingere la ceramica pensate una roba completamente priva di qualunque uso militare il Congo apparteneva ai reali del Belgio e allora questi scienziati negli Stati Uniti terrorizzati che Hitler possa convincere i re del Belgio a farsi dare l'uranio decidono di andare dal Presidente degli Stati Uniti in America per supplicarlo di intervenire presso i reali del Belgio affinché non diano ad Adolf Hitler questo uranio ma il Presidente degli Stati Uniti non li considera perché sono dei ragazzi giovani sono degli scienziati ungheresi sì alcuni di talento come Sillard ma gli altri assolutamente anzi in molti casi un po' eccentrici bizzarri e quindi il Presidente non gli dà l'audienza loro allora raggiungono Einstein Einstein firma una lettera ma neanche lui diciamo neanche lui ci crede più di tanto è tutto raccontato è tutto raccontato è storia vera fino a quando non succede qualcosa fino a quando non succede che fra varie commissioni inutili che si trascinano nel tempo anzi con l'ironia addirittura i militari guardano questi scienziati come dire ma di cosa state parlando una bomba che distruggerebbe il mondo questa cosa non decolla non parte questo progetto di bloccare la bomba atomica di Hitler non parte fino a quando non succede qualcosa fino a quando non succede che loro coinvolgono uno dei grandissimi riescono a convincere perché era ebreo anche lui riescono a convincere uno dei più potenti uomini di tutta Wall Street che era il vicepresidente della banca Alexander Sachs detto su Roshka Sachs era un ebreo lituano a sua volta terrorizzato perché lui era fuggito dalla Lituania dei pogrom quindi era terrorizzato anche lui che ci fosse una cosa del genere lui con il potere dei soldi comincia a far capire alla Casa Bianca che qua il rischio c'è davvero che Adolf Hitler prenda il potere non soltanto militare economico sul mondo se lui ha un'arma e questo già inizia a far scricchiolare la posizione fino a quando i giapponesi che sono la variante che noi non consideriamo mai in tutto questo perché pensiamo sempre essendo noi italiani e quindi vicini alla Germania e Benito Mussolini collegato ad Adolf Hitler tendiamo sempre a polarizzare la seconda guerra mondiale come una guerra contro Hitler ma per gli Stati Uniti non fu così per gli Stati Uniti il principale nemico non era Hitler erano i giapponesi perché erano geograficamente più vicini erano dall'altra parte del Pacifico e non solo i giapponesi sono quelli che appena scendono in guerra la prima cosa che fanno distruggono la quasi totalità della flotta americana per Harbour i giapponesi lo fanno quindi gli americani che non erano in guerra anzi la risposta che la Casa Bianca dava agli scienziati era abbiamo capito c'è questo rischio va bene ma noi non siamo in guerra fino a quando i giapponesi gli distruggono la flotta a Pearl Harbor e non solo l'elemento fondamentale fu che i giapponesi iniziano non soltanto a conquistare con una rapidità incredibile la gran parte della diciamo dello scacchiere geopolitico dell'Asia meridionale se prendono le Filippine nella Birmania l'Australia bombardano Sydney tolgono praticamente l'Australia gli inglesi ma a un certo punto i giapponesi cominciano noi questo lo omettiamo di solito nella nostra visione italiana europea ma i giapponesi cominciano a far suonare gli allarmi antiaerei a Los Angeles in California suonavano gli allarmi antiaerei per timore che gli aerei giapponesi bombardassero Los Angeles e la costa occidentale scusatemi fino a quando i giapponesi sferrano l'attacco sull'Alaska e cercano di prendere l'Alaska a quel punto gli Stati Uniti d'America che già dopo Pearl Harbor decidono che questa bomba questo ordigno incredibile se lo devono procurare loro danno l'incarico a Suroshka saxe di comprare lui per gli Stati Uniti tutto l'uranio contenuto nella famosa miniera del Congo e decidono di finanziare ma è un punto d'arrivo che come sentite arriva dopo molto tempo dopo anni decidono di finanziare un progetto di verifica verifica se sia veramente fattibile dotare gli Stati Uniti d'America di un ordigno di distruzione di massa ed è a quel punto che il governo degli Stati Uniti convoca due scienziati uno era un matematico che si chiamava Vannevar Bush il quale Vannevar Bush coinvolge come responsabile il fisico Robert Julius Oppenheimer dandogli l'incarico di verificare in sei mesi di tempo se questa bomba atomica sia realmente fattibile e se sì a quali condizioni è qui che entra in scena Oppenheimer ma come sentite è un processo che era già in corso da molto tempo e che nasce quindi dal tema della paura nasce dal tema della paura poi ci sarebbe da parlare del fatto ma lo facciamo dopo credo il peso della morte tutto questo è anche lì che scoprono che di uranio ne serviva molto meno di quanto sospettassero inizialmente sì perché scoprono scoprono che in realtà c'era un isotopo che era l'uranio 238 che in realtà rispetto all'uranio che pensavano ci volesse inizialmente era fissile con una quantità nettamente inferiore in più cominciano anche a studiare fra le varie possibilità perché ce ne sono state tantissime di possibilità pensavano di usare il deuterio il trizio decidono di provare anche il plutonio infatti le due bombe che furono sganciate su Hiroshima e Nagasaki erano due bombe completamente diverse una era plutonio e l'altra era con l'uranio 238 erano due bombe completamente opposte che vennero lanciate tutte e due proprio per manifestare che loro avevano studiato due prototipi diversi di bombe dall'altro questo diciamolo è un'altra pagina incredibile perché perché se ci pensate è assurdo è assurdo perché i due bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki avvengono quando la guerra la seconda guerra mondiale fondamentalmente è finita è vinta Adolf Hitler si era già ucciso nel famoso bunker non parliamo dell'Italia aveva già capito la seconda guerra mondiale era vinta non c'era alcun bisogno di lanciare due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki gli storici raccontano ricostruiscono che tutto questo perché ebbe luogo ebbe luogo perché da un lato e questo lo raccontano soprattutto gli storiografi e gli storici americani perché fondamentalmente gli Stati Uniti non avevano mai non avevano mai cicatrizzato la ferita della vergogna di Pearl Harbor la loro flotta completamente distrutta dall'impero giapponese era una ferita che non era mai stata rimarginata quindi guarda caso le due bombe sul Giappone e non solo per questo anche per un'altra ragione incredibile perché gli Stati Uniti si rendono conto che la guerra è vinta ma è vinta da chi? è vinta dagli Stati Uniti e fondamentalmente dall'Unione Sovietica e siccome si apriva un mondo in cui la contrapposizione sarebbe stata fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica alleati fino al giorno prima contro Adolf Hitler loro vollero aprire questa nuova pagina chiarendo subito che loro avevano una ricerca avevano una potenza militare una ricerca scientifica una potenza militare tale da poter essere i più forti rispetto all'avversario quindi la bomba atomica ebbe fondamentalmente una una funzione preventiva non una funzione consuntiva qui vediamo a bomba perché la paura della bomba e perdonami il gioco di parole ha comunque permesso al mondo di di farcela di di sopravvivere oggi sembra che siamo entrati in un tempo forse perché il ne è trascorso tanto da quando vennero sganciate le bombe su Hiroshima e Nagasaki che quel pericolo della bomba non basti si è instaurato un nuovo tipo di paura non abbiamo più paura come la vedi? allora il tema è molto complesso dunque noi siamo figli di un paradosso perché siamo figli di un paradosso facciamo un passo indietro perché altrimenti diciamo delle cose gratuite allora gli ebrei sfuggirono lo sterminio e poi assolutamente però dunque dicevo facciamo un passo indietro perché nella storia dell'essere umano il rapporto stretto fra la scienza intesa come progresso e il male inteso come diciamo annientamento c'è sempre stata questo rapporto c'è sempre stato è un rapporto paradossale ma secondo Sigmund Freud assolutamente plausibile all'inizio della seconda guerra mondiale Albert Einstein sempre lui che non credeva che Adolf Hitler alla fine avrebbe portato il mondo in una guerra lui era uno dei tanti convinti che bastasse riconoscere a Hitler alcune diciamo zone per esempio i sudeti quindi le famose zone di lingua tedesca che in realtà erano fuori dal confine tedesco bastasse riconoscere a Hitler la rionificazione del mondo tedesco quindi l'annessione dell'Austria per farlo star zitto molti fecero questo errore insieme ad Einstein pensare che Adolf Hitler fosse esclusivamente un pan germanista per il quale fondamentalmente l'importante era ricostituire il regno tedesco il Reich in realtà non era così evidentemente e se ne resero conto quando poi lanciò sferrò l'attacco sulla Polonia adesso lo sappiamo Adolf Hitler prende appunto il sopravvento e Albert Einstein scrive una lettera bellissima a Freud dicendo io sono un uomo di scienza non sono un uomo come lei che studi la mente umana l'animo umano le faccio una domanda professor Freud come si spiega che l'essere umano pur sapendo perfettamente da secoli se non da millenni che la guerra è distruzione morte annientamento rovina catastrofe com'è che continuiamo a ricorrere alla guerra e Freud risponde ad Einstein dicendo mi dispiace che lei si stupisca di questo io non me ne stupisco affatto proprio perché studio l'essere umano e la sua psiche so che dentro ogni essere umano anche il più insospettabile albergano due forze due istinti completamente diversi opposti e contraddittori il primo dice Freud lo chiameremo Eros il secondo lo chiameremo Thanatos Eros è quella forza di noi che mira all'armonia la civiltà la bellezza all'arte alla condivisione al dialogo Thanatos dentro di noi spinge invece alla sopravvivenza alla sicurezza alla supremazia alla paura e all'agnentamento da dove nascono dice Freud queste due forze queste due forze nascono dal fatto che ahimè Thanatos è in noi molto più antica di Eros Thanatos risale in noi a quel momento lontanissimo di cui abbiamo perso completamente memoria durato millenni nei quali l'essere umano era solo era solo buttato su un pianeta pieno zeppo di insidie e cosa faceva si difendeva il primo incarico dell'essere umano per salvare se stesso era difendersi difendersi dagli animali difendersi dagli elementi naturali difendersi dai nemici per far cosa per tutelare la propria sopravvivenza e quindi le risorse vitali le risorse vitali erano un corso d'acqua erano la selvaggina erano un tetto sulla testa quando qualcuno metteva in crisi questo tuo questa tua sopravvivenza il fatto di poter bere di poter mangiare e di poter dormire con un tetto sulla testa scattava una forma di violenza che ti portava semplicemente a sopravvivere è successivo dice Freud il momento in cui l'essere umano ha scoperto che unendosi ad altri esseri umani componendo una tribù si difendeva meglio sopravviveva meglio e che nelle competenze della tribù per cui nella tribù c'erano i guerrieri c'erano gli stregoni c'erano nelle competenze l'uomo si salvava ma questo è un passaggio successivo noi abbiamo dentro la memoria di queste due istanze di questi due momenti che abbiamo vissuto il momento sociale e il momento individuale che dice Freud si mantengono in noi fortissimi ognuno di noi anche la persona più buona sulla faccia della terra Freud lo dice in un modo meraviglioso dice dentro ognuno di noi c'è Mozart e c'è Torquemada dentro ognuno di noi c'è Adolf Hitler e diciamo noi c'è Mahatma Gandhi potremmo dire questa cosa torna anche nel terzo ecclesiaste che lo uccidi certo ognuno di noi ha dentro le due cose le due facce che è sempre stata una forma antichissima attenzione la bipolarità se voi prendete quella forma antichissima di saggezza che sono i tarocchi voi scoprirete che nei tarocchi la carta della morte che i ciarlatani quando leggono le carte dicono ah è venuta la morte la carta dei tarocchi della morte molte volte significa vita non significa morte a seconda di come esce in collegamento a cosa esce la carta dei tarocchi che indica la morte indica la vita perché dalla morte inizia la vita e noi ci cibiamo di animali morti noi siamo cibati di morte se l'animale che noi uccidiamo per mangiarlo non fosse morto se la pianta che noi mangiamo non fosse stradicata noi non sopravviveremo quindi noi ci cibiamo di morte noi siamo la morte di ciò che ci sta intorno questo è indiscutibile poi ci sarebbe da parlare anche del fatto che la biologia ti dice sapete quante cellule ogni giorno voi sostituite senza rendervi conto con cellule nuove ogni giorno tre miliardi e mezzo cioè significa che ogni mattina quando tu ti guardi nello specchio tu ti dovresti dire benvenuto perché sei un'altra cosa sei tre miliardi e mezzo di novità rispetto al giorno prima significa che tu sei la morte di te stesso tu sei la morte continua di te stesso è la ragione per cui ora qua si entrerebbe in un discorso ancora più complesso lo facciamo un'altra volta ma lo facciamo un'altra volta torno per parlare di questo di quanto io detesti la parola coerenza la parola coerenza è una parola che esiste soltanto alle latitudini occidentali figlia di un codice di un sistema di valori che attribuisce nobiltà d'animo a colui che non si contraddice cioè che non cambia idea cioè se io trovo una persona di 80 anni che mi dice ho le stesse idee la stessa visione del mondo di quando non avevo 19 io dovrei stimarlo ma quello è un perfetto idiota perché se in tutti questi anni non ha mai cambiato idea una volta è antitetico alla legge fondamentale della natura che intorno a noi implica il cambiamento e la sostituzione è come una legge fondamentale di sopravvivenza tu sopravvivi in quanto che muori tu ogni giorno sei la sopravvivenza di te stesso rispetto al giorno prima sei 3 miliardi e mezzo di cellule diverse perché 3 miliardi e mezzo sono morte quindi tu hai continuamente la morte dentro di te tutto questo per dire che cosa tutto questo per dire che aiutami a tornare da dove da dove sono partito perché poi alla fine io prendo parto e poi dopo a un certo punto ma in realtà il discorso quello quello che stai facendo con noi è un po' ciò che il lettore può trovare aspetta aspetta me lo ricordo ce l'hai no perché poi ho dei lampi di lucidità allora no la domanda che mi hai fatto mi hai chiesto la morte oggi no allora il punto io infatti però vedi però poi ho un minimo di raziocinio ce l'ho nel senso ve l'ho detto partiamo prima ho detto e poi arriviamo all'oggi noi siamo figli della bomba atomica cioè noi siamo figli di un ordine del mondo che è quello che si è costituito con la fine della seconda guerra mondiale che ha in qualche modo comportato un ordine nuovo basato sulla paura gli Stati Uniti sono stati in piedi su questo vi dicevo prima che il binomio fra scienza e morte che è paradossale perché la scienza in teoria sarebbe figlia di Eros noi conosciamo le cose per vivere meglio per vivere più a lungo ma non solo perché il binomio fra scienza e morte fra scienza e guerra c'è sempre stato se volete c'era già nell'intelligenza di Ulisse che risolve la guerra di Troia con un lampo di genio e non con la forza bruta ha continuato sempre ha continuato con il lampo di genio di Annibale che si presenta con i pachidermi con gli elefanti e ha proseguito quando durante le crociate i cronisti riferiscono che il nemico era probabilmente sostenuto dal demonio perché c'erano i cosiddetti bagliori gialli i bagliori gialli altro non erano stiamo parlando delle crociate erano le armi costruite facendo esplodere lo zolfo quindi lì c'era stato qualche alchimista che pari a Oppenheimer o a un altro aveva fornito a un esercito il fatto che poteva far scoppiare lo zolfo ed è andata avanti sempre questa cosa la prima guerra mondiale usa l'iprite noi italiani fumo maestri fall'altro nell'uso dell'iprite che cos'era se non un utilizzo della scienza a fini militari la seconda guerra mondiale attenzione passa alla storia come la guerra conclusa dalla bomba atomica come se durante la seconda guerra mondiale non ci fossero stati altri paradigmi dell'incontro fra la scienza e la guerra ma la seconda guerra mondiale è la guerra durante la quale i nazisti prima della bomba atomica usano il sarin il ciclo sarin il tabun che sono dei gas con delle conseguenze incredibili la seconda guerra mondiale è la guerra in cui c'è quella famosa scena in cui il generale Shiro Ishii che era il capo di stato maggiore dell'esercito imperiale giapponese si presenta in conferenza stampa e denomina la mia piccola cucciola la chiama così la levisite che era un gas che in circa due minuti squagliava gli organi interni di coloro che la respiravano e questa è la scienza che incontra la guerra prima della bomba atomica oggi noi arriviamo in un mondo figlio di quel mondo lì in cui paradossalmente cosa abbiamo abbiamo una grandissima quantità di superpotenze non soltanto gli Stati Uniti e la Russia di Putin ma l'India la Cina la Corea del Nord che possiedono armi di distruzione di massa tutto si è fatto seriale tutto è andato sullo scaffale del supermercato compresa la bomba atomica questo paradossalmente è il tema e tutto quanto si è inflazionato al punto tale che oggi la morte è diventata un prodotto e noi in qualche modo la troviamo in vendita dovunque è da ogni parte paradossalmente siamo diventati troppo bravi a convivere con la morte e forse credo che sia questa un po' la ragione vorrei aggiungere questa cosa se è possibile mi ha sempre colpito molto che nelle chiese figlie della grande storia dell'arte che poi è intrisa di cristianesimo c'è questo elemento fondamentale che è il crocifisso il crocifisso mira a rispondere a un obiettivo che per tantissimi secoli è stato quello di impressionare i credenti raffigurando centralmente nella chiesa lo spettacolo il simbolo della violenza dell'ingiustizia del sangue della tortura della corona di spine della morte perché noi abbiamo addosso una cultura che se ci pensate è interamente basata su uno che è morto in croce il cristianesimo si basa tutto sulla morte e l'agnentamento della morte che sta nella risurrezione la pasqua cristiana è quella pasqua in cui diversamente dal pesach ebraico che era l'attraversamento del mar rosso quindi una cosa di totale vita loro andavano a vivere e sopravvivevano viceversa nel cristianesimo la pasqua diventa il momento in cui il cristo vince la morte e nei nostri luoghi di culto nelle nostre chiese c'è centrale lo spettacolo della morte con intorno su tutto il perimetro della chiesa le stazioni della via crucis che sono l'avvicinamento alla morte questo vi fa capire che per secoli l'elemento della paura della morte è stato un elemento condiviso da milioni di persone che sulla paura di quella morte hanno costruito una condotta un'etica e una morale oggi noi viviamo viceversa in un'epoca è questo che sia il tema fondamentale da cui diciamo la ragione per cui ho voluto anche essere qua in questo ciclo che voi dedicate alla morte che è il tema forse più rimosso che ci sia oggi un tempo no attenzione perché basta leggere i romanzi i romanzi dell'ottocento italiano e nei romanzi dell'ottocento italiano tu trovi che le persone anziane è una cosa che oggi sarebbe inimmaginabile le persone anziane quando moriva qualcuno prendevano i bambini di 4 5 anni li portavano davanti al cadavere e dicevano guarda il bisnonno morto guardalo l'esperienza della morte era un'esperienza che veniva fatta fino da quando eri un bambino in modo che per noi oggi è inconcepibile spudorato oggi c'è lo sai che il nonno è andato a fare un viaggio no è andato che se ci pensi è una boiata assurda perché non c'è niente che faccia parte della vita quanto la morte ma oggi è negata è rimossa fa parte di questo meccanismo totalmente clamorosamente idiota per cui la vita deve essere fiabizzata e quindi in questa fiaba in questo cartone animato in cui gli uccellini devono cinguettare il cielo deve essere sempre azzurro e non ci sono mai nuvole non ci può essere spazio per la morte oggi noi ci troviamo viceversa a vivere quindi in un momento in cui complice anche il mondo in cui viviamo dei social la morte è stata totalmente screditata ed è quello a cui stiamo assistendo adesso in occasione della guerra in Ucraina i russi o gli ucraini lanciano un drone una bomba su qualcosa ci sono morti come è successo a Buccia con quelle immagini terribili della gente uccisa torturata e lasciata per strada con le mani legate col fil di ferro dietro qual è la risposta sui social occidentali non era vero sono tutti figuranti è un set quello che vi sto dicendo è che oggi davanti al crocifisso la gente direbbe ma non è morto davvero forse succo di pomodoro forse la croce non era vera forse era polistirolo non era vero la morte non esiste non esiste la morte ecco questa negazione della morte questa minimizzazione della morte questa trasformazione della morte in una pagliacciata da cinema è qualcosa che ti spiega secondo me perché oggi noi ci troviamo veramente sull'orlo della catastrofe perché è stata talmente banalizzata che fondamentalmente non gli fa più caso nessuno ci stanno facendo dei segni in cirillico in aramaico che si approssima il prossimo spettacolo io Stefano vorrei però chiudere con un minimo di ironia perché nel libro ce n'è tanta e ti chiederei appunto di terminare con un'altra lettura in particolare mi piacerebbe che tu leggessi loro il brano in cui un giovane Oppenheimer innamoratosi di una compagna dell'università con i capelli rossi un neo sul mento comincia a elaborare tutta una serie di teorie per vedere se con questa ragazza effettivamente può funzionare e quindi sono 18 variabili che sono non è Oppenheimer è Vannevar Bush Vannevar Bush Vannevar Bush è giusto è vero e sono vi assicuro straordinarie sì perché poi alla fine vedi l'elemento fra il riso e il dramma è un'altra cosa ebraica allora sì dunque va letto anche il pezzettino prima se non capisco nulla però cioè nel senso tanto lo faccio velocemente allora questa sì è la storia di Vannevar Bush che sarà che Vannevar Bush figlio di un pastore protestante cresciuto pure lui fra i patriarchi e i profeti sapeva benissimo l'aveva sempre saputo che per ogni uomo prima o dopo arriva un momento in cui ad un tratto scopri prima o dopo cosa vuole l'eterno da te prima o dopo e lì tutto svolta per cui c'è da capirlo se per anni Vannevar Bush aveva aspettato quel momento quel momento sì l'aveva aspettato si dà il caso però che l'eterno segua manovre un tantino complesse per rivelare cosa vuole da noi e infatti Everett Massachusetts il vecchio merciaio all'angolo un certo Samuel aveva deciso di richiudere i battenti non ci vedeva più il vecchio merciaio Samuel si era rovinato gli occhi mezzo secolo dietro il bancone mezzo secolo ad avvolgere mesurare fili fili sottili fili sottilissimi fili che si intrecciano fili che si sovrappongono non li vedi non li vedi non li vedi e allora basta fine della storia il vecchio merciaio non ne poteva più si sarebbe finalmente ritirato a pescare pescare sì pescare certo aveva sempre voluto pescare il vecchio Samuel da una vita intera da una vita intera sapeva che si sarebbe messo un giorno a pescare eccoci quello era il momento era arrivato addio ai fili benvenuto alla pesca ed era così felice il vecchio Samuel glielo leggevi in faccia era così felice quando si era comprato un bel assortimento di lenze se l'era fatto proprio spedire c'era il suo nome sul pacco giallo l'aveva aperto come un dono dal cielo peccato solo che al primo tentativo il vecchio Samuel si era reso conto che le lenze so come i fili pure loro sottili sottilissimi che si intrecciano si sovrappongono non le vedi non le vedi non le vedi e insomma c'era rimasto male il vecchio Samuel e c'era rimasto più che male perché se fuggi da casa non è che che vuoi che la fuga sia come la casa e se la fuga è come la casa allora meglio la casa che se non altro sai cos'è con la differenza che a quel punto ti tieni la casa ma senza più sognare la fuga e maledizione sognare la fuga teneva in piedi la casa c'era rimasto molto male il vecchio Samuel c'era rimasto malissimo che le lenze fossero come i fili gli era crollato proprio il mondo addosso che le lenze fossero come i fili ma siccome le vite degli esseri umani sono intrecciate in modo così strano esattamente come le lenze e i fili succede anche che la fine di qualcosa sia l'inizio di qualcos'altro per cui insomma una mattina passando là per strada ad Everett Massachusetts Vannevar Bush sedici anni figlio di un pastore protestante scoprì esattamente accanto a un bidone dell'immondizia un groviglio di fili e di lenze gettato da un vecchio merciaio lo raccolse lo portò con sé lo depose sul tappeto della camera tirò fuori il primo dei tanti grovigli e per una serata intera Vannevar Bush sedici anni separò le lenze dai fili i fili dalle lenze sottili sottilissimi che si intrecciano si sovrappongono non le vedi non le vedi non le vedi ma proprio in questo stava la bellezza che lui viceversa vedeva vedeva tutto vedeva e come laddove chiunque si sarebbe perso laddove chiunque avrebbe rinunciato laddove chiunque avrebbe visto solo un groviglio Vannevar Bush quella sera vide nove lenze e nove fili dall'età di sedici anni da quella serata in cui districò il groviglio di nove lenze e nove fili Vannevar Bush figlio di un pastore protestante a Everett Massachusetts scioglieva l'inestricabile si era specializzato nel ramo scientificamente era diventato formidabile bravissimo anni e anni di studio matematica analisi calcolo tutto con l'esclusivo obiettivo divino di separare le lenze dai fili ne vedeva dappertutto ne vedeva in ogni attimo e anzi ormai lo sapeva lo sapeva perfettamente che la cosiddetta realtà altro non è che una matassa grovigliata di lenze e di fili inestricabile dove tutto si annoda con tutto le cause con gli effetti i dettagli con la sostanza le apparenze con la verità variabili 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 e se vuoi capire devi sciogliere 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 a poco più di vent'anni Vannevar Bush concepiva già ogni cosa intorno a sé come un groviglio di variabili anzi di più da quella sera in cui l'Eterno gli aveva mostrato la via Vannevar Bush si ostinava a credere che un minimo di nove lenze e nove fili per un totale di 18 variabili intricate stessero dietro a ogni umano groviglio e usava questo schema di nove lenze e nove fili per un totale di 18 variabili come modello infallibile per sciogliere 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 i nodi della realtà funzionava sempre per dirne una nel 1914 sui banchi dell'università si era innamorato di una studentessa una come lui una coi capelli rossi un neo sul mento ma prima ancora di rivolgere la parola valutò di calcolare la tenuta della possibile coppia traducendo un'intera vita coniugale in un sistema matematico di variabili nove lenze e nove fili per un totale di 18 variabili prima variabile quantificazione durata di vita della signorina seconda variabile quantificazione durata di vita del sottoscritto terza variabile interferenze di suoceri e o consanguinei quarta variabile fattori di incidenza dell'auspicabile prole quinta variabile grado di esposizione della signorina al fascino maschile sesta variabile grado di esposizione di me e me stesso allo charme di x donne settima variabile fascia di reddito coniugale ottava variabile livello di decoro e o squallore del domicilio coniugale nona variabile parametri di affermazione professionale reciproca decima variabile sinusoide della frustrazione lavorativa e o sociale undicesima variabile incidenza di catastrofi esterne politiche militari calamità naturali dodicesima variabile incidenza di catastrofi interne biologiche emotive raptus isterie assortite tredicesima variabile supporti religiosi ad esempio fede a ultranza nell'istituto matrimoniale quattordicesima variabile tenuta dei costumi sociali ondate epicuree di libertinismo collettivo quindicesima variabile flusso di decenza delle reciproche mutazioni estetiche sedicesima variabile livello di mutua decadenza senile diciassettesima variabile predisposizioni genetiche ad esempio omicidi domestici fra consanguinei diciottesima variabile tasso di sopportazione di tolleranza al talamo e arrivato alla diciottesima variabile valutò che era meglio non rivolgere la parola applausi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti